Già un impatto l'abbiamo visto perché il fatto che ci sia stata questa decisione rimandata di un mese ha fatto sì che il mese di maggio si sia aperto con grande vigore delle borse europee, quindi l'aspettativa dei mercati dipende molto da queste decisioni, nel caso in cui venissero applicati questi dati penalizzerebbero chiaramente l'economia europea, ma in questo momento sembra che si stia allontanando sempre di più la decisione, non solo per il mese di tempo che si è preso, ma anche per le trattative che la UE sta cercando di portare avanti. Ovviamente questa decisione rimandata di un mese potrebbe però nel caso in cui si manifestasse potrebbe poi spingere di nuovo a ribasso le borse, complici le resistenze che abbiamo evidenziato guardando i grafici, sia per quanto riguarda la borsa italiana e soprattutto per il DAX ed Eurostox che sono, come dicevo, come sottolineavo, il DAX a contatto con delle resistenze molto forti.